L'ospedale Maresca, l'audizione in quinta commissione sanità, è stata sconvocata. Senza alcuna spiegazione, a meno di 24 ore dall'incontro, la regione ha annullato l'appuntamento precedentemente fissato per domani alle 15.30 in modalità telematica, a data da destinarsi. All'ordine del giorno, lo stato dei lavori, l'organizzazione dei servizi al presidio ospedaliero di Torre del Greco. Cresce la rabbia dei consiglieri comunali di opposizione negli attivisti dell'associazione Pro Maresca, che nel mese di marzo avevano fortemente voluto un consiglio comunale monotematico sul caso dell'ospedale torrese. I cittadini continuano tutt'oggi a non essere ascoltati. Ricordiamo che il pronto soccorso del Maresca ad ottobre è stato chiuso. Ci sono le catene, quindi questa è una condizione insopportabile e non è legittima, in quanto questo va contro il diritto della salute dei cittadini di Torre del Greco. Infatti io ho annunciato oggi anche sulla stampa, a mezzo stampa, di segnalare al sindaco, ancora una volta al dottor Giovanni Palomma, di intervenire su questa questione. Perché il sindaco, lui come responsabile, primo cittadino di Torre del Greco ed è lui responsabile della salute di tutti noi torresi e anche come presidente della conferenza dei sindaci dell'AS Napoli 3 Sud, lui ha il dovere di imporsi, di controllare ciò che sta succedendo all'ospedale Maresca, per cui noi vogliamo capire quando ci sarà una nuova convocazione. Non abbiamo avuto né una motivazione scritta, né una data certa, per cui noi veramente siamo molto ma molto arrabbiati. Noi adesso ovviamente saremo sul fiato sul collo alla Regione, perché vogliamo andare in Regione e avere delle risposte, sia dalla Regione Campania, quindi dalla quinta commissione, sia dal direttore dell'AS Napoli 3 Sud. Ancora una volta la Regione Campania chiude le porte alla città di Torre del Greco. La Regione chiude le porte all'ospedale Maresca ed è un mistero, un ospedale che ha una storia gloriosa, limpida, pulita, una storia eccellente, deve essere trattato come un bandito, come un clandestino, non si può nominare. E oggi addirittura esiste la parola sconvocazione dell'audizione. Ma per quale motivo io vorrei sapere? L'ospedale Maresca fa venire la febbre, i brividi a chi deve parlarne. Chiediamo al dottore Sosto un incontro, il povero sindaco con il consigliere D'Ambrosio che è delegato all'ospedale, sta da un mese e non riesce ad ottenere un incontro col direttore Sosto. Ma perché? Fatecelo capire, noi non abbiamo nulla da temere da questi incontri, noi siamo semplicemente dei cittadini attenti alla salute propria dei propri cari e se consentite anche dei propri amici di tutta la cittadinanza. L'associazione Maresca viene vista come una rottura di scatole. Noi non siamo una rottura di scatole, noi vogliamo aiutare, cooperare, interfacciarci per mantenere un presidio necessario come l'acqua. E noi stiamo dismettendo un ospedale funzionante con una capienza di 250 posti letto. Ma di cosa parliamo? Cos'è che non va? È un mistero che vorremmo tanto si chiarisse per il bene di tutta la Napoli 3 Sud. I cittadini torresi hanno bisogno di un ospedale attrezzato che garantisca loro i servizi di base e fornisca loro sicurezza sociale, oltre che a limitare la migrazione sanitaria che costa molto sia alle famiglie, soprattutto alle famiglie, e anche alla nostra Astra Napoli 3 Sud. Ricordo che a gennaio 2020 il presidente De Luca in visita all'ospedale Maresca aveva dichiarato che sarebbero stati stanziati 6 milioni di euro per restyling e per rilancio del nostro ospedale. Tutt'oggi non sono proprio iniziati i lavori e a dire la verità non siamo neanche in possesso di un crono programma dei lavori da effettuare. Volevo solo capire il perché di tutto questo. Qualsiasi cosa che noi facciamo, qualsiasi cosa denunciamo, viene sempre tutto archiviato oppure non ci ascoltano. Sicuramente forse diamo troppo fastidio. Da mesi ormai il pronto soccorso è stato disattivato per la gestione dell'emergenza pandemica ma non dimentichiamo che secondo il piano regionale e poi quello successivo aziendale sono previsti posti letto, discipline e reparti a Torre del Greco. Sì ma ancora tuttora non si vede niente al Maresca. Qui si muore signori, veramente si muore. Gente che muore di infarto in casa con un pronto soccorso che abbiamo e con dei dottori che avevamo l'hanno trasferito in altri ospedali. Cioè veramente non si vive più così. Vogliamo verità, vogliamo capire questa patata bollente chi è che c'era in mano. Ringrazio TV City perché dà voce a noi che purtroppo non ne abbiamo più, nel senso che parliamo in consiglio comunale, chiediamo delle cose ma non arriva a destinazione. Quindi grazie alla vostra emittente televisiva questo si può fare. Chiaro è che è singolare che una città che ha un consigliere regionale con 28 mila voti, quindi ha raccolto in città circa 4 mila preferenze, non dedica un minimo di attenzione alla nostra città, al nostro nosocomio. Si dovrebbero vergognare chi oggi assurge il ruolo di rappresentante sovraordinato al Comune di Torre del Greco perché sappiamo bene che oltre alla conferenza di sindaci il sindaco non può fare. Adesso non voglio scagionare il sindaco di Torre che ne ha responsabilità, ma certamente chi assurge a ruoli sovraordinati di consigliere regionale si dovrebbe vergognare.